20 giorni fa anche un'altra ragazza qui proprio davanti all'ufficio immigrazione è stata malmenata per levagli un cellulare, è stato preso il ladro e l'hanno messo a riarriesti i domiciliari direttamente dentro al campo. Siamo, non lo so, sconcertati, però sale la rabbia. Una tragedia quasi annunciata, quella di Gianghiao, secondo i residenti di Tor Sapienza, che da anni denunciano il totale abbandono da parte delle istituzioni. Qui la sicurezza è solo un miraggio, ci riferiscono, a causa in particolare del campo Rom di Via Salviati. Una terra di nessuno, esempio lampante della malagestione operata negli anni dal Campidoglio. I controlli sono insufficienti ed è difficile anche per chi è preposto a garantire la legalità entrare nel campo. Troppo pericoloso e la tensione tra gli abitanti dell'insediamento e residenti del quartiere è altissima. Noi da anni che denunciamo problemi di sicurezza, perché sono avvenuti tantissimi fatti, anche abbastanza gravi. L'ultimo ce l'abbiamo di questa povera ragazza che ci lascia inorriditi. Il quartiere è dimenticato dal Campidoglio, dal municipio e da tutti. Noi siamo pieni, pieni, pieni di problemi. Ribadisco ancora per l'ennesima volta che con la chiusura dei negozi c'è un autocoprifuoco imposto dai cittadini perché è difficile girare nel quartiere dove oramai la criminalità fa da padrone. Nessuno ferma, nessuno è. Vediamo tanti salotti, tante chiacchiere. Non risolviamo il problema. C'è una grande preoccupazione perché qui spaziamo dal campo Rom che comunque dà della rabbia ai cittadini proprio in virtù di questi scippi, in virtù anche di come vivono, cioè in un letamaio vero e proprio. Andiamo alla prostituzione che oramai è alle stelle, spazzatura che non viene ritirata, un quartiere in cui anche gli spazzini da terra sono delle visioni illiache. Non sappiamo più a chi rivolgersi. E quello che ci dispiace è tornare sulle cronache sempre per problemi, problemi sempre più gravi. Nessuno se ne vuole occupare. Nel campo di via Salviati quotidianamente si alzano colonne di fumo denso e nero prodotte, secondo i residenti, dalla combustione di rifiuti e cavi di rame rubato, nubi tossiche che sprigionano veleni di ogni genere. Oramai noi i roghi tossici non li contiamo più perché sono quotidiani, continui, più piccoli, più grandi e non viene solo da via Salviati perché ci sono dei campamenti abusivi, da via degli Amarilli, da via Costi. A volte respiriamo anche quelli di Salone perché sono immensi roghi di fumo nero. La diossina qui ci sta uccidendo, gli anziani cominciano a soffrire, bruciori di gola, bruciore agli occhi e non si vede la strada anche di fermare questa cosa che è una delle più gravi perché minaccia la salute vera, sia dei bambini e degli anziani ma anche delle persone, voglio dire, normali. La sera non si respira, dobbiamo chiudere le finestre. Adesso ci aiuta un pochino il fatto che fa freddo, quindi la finestra rimane chiusa, ma come c'è la bella stagione noi siamo costretti a vivere murati dentro casa. Non gliela facciamo più, veramente non gliela facciamo più. Non gliela facciamo più.